La Serie A trova la sua quinta sfida della quinta giornata quindi si va al culmine con la partita tra la capolista cantina aperta contro il golbet BB Milf, squadre attualmente divise da diverse posizioni ma da pochi punti in classifica sfida quindi importante perché le cantine aperte vincendo andrebbero in testa da soli a 9 punti staccando più 3 la seconda Proietti Ecco il gioco, subito lo scambio che porta Proietti all'inserimento Proietti calcia e la mette dentro al primo sussulto Cristian Proietti con l'azione tipica, la calcia 5 entra al strato destro dell'area e trafigge così il portiere Giocato qui per la conclusione di Proietti Stilli trova un gran barco qui per Fornelli Fornelli punta Pineri, prova il pallonetto Pallone alto, grande chance per Milf C'è lo spazio qui per la giocata che porta la conclusione in rete Ancora Cristian Proietti, ancora le cantine aperte 2-0 Un destro che simila il palo E poi si insacca per la rete del doppio Ancora per Pissini che ha tanto spazio qui Si è contingentemente cara la parata di Pineri Ancora Proietti che parte Proietti, il braccio centrale, il suo Calcia E trova la tripletta personale Atric per Proietti Gli è lasciato tutto solo Tutto il tempo libero di calciare in porta Ancora per Cara Cara la gira bene su Faraglia Attenzione a Faraglia Che parata per la di Pineri E oggi siamo già in questa trattata con Proietti Settazione importante perché un 2 contro 1 Mette lunga Pallone passa ma va sul fondo Chance da una parte danata Pallonbi Fressato Pallonbi Attenzione a Cara che recupera Pallon Pineri Che lì il pallone tra piedi Si ripunta L'avversario lo supera Calcia anche in porta Con un gran gol Pistilli Si burla di Severoni E va a calciare una gran diagonale Su quale Pineri stavolta nulla può Accorcia le distanze i Milf Travanta Prateria ancora una volta Così temi a fuori E finisce qui il primo tempo 3 a 1 in favore delle cantine aperte Ecco Poggiani C'è un barco Poggiani prova a prenderso Resiste anche la carica Ancora Poggiani Le sue finti Il sinistro Pineri a dire di no Lo trova a Maggi C'è il contropiede 2 contro 2 Maggi e Poggiani Ma esce Ancora lui Poggiani Poggiani va ancora fino in fondo E calcia Pallone alto Si è accesa la partita Ancora più di Gioia Guarda qui protegge palla Gioia fa partire Poggiani Gran palla per Poggiani Che da solo davanti al portiere Si divora il poker personale Si divora soprattutto la chance Di poter chiudere la sfida Maggi cerca ancora Poggiani Perde palla Attenzione al contropiede Perché ora c'è Il solito Gioia Che si libera E trova il sinistro Giusto Come al solito Andrea Gioia 4-1 Su azione di contropiede Poggiani Cerca ancora il numero Il vizio passa per Poggiani Che va a calciare Ma riapre di nuovo 4-2 Ha segnato Poggiani Che arriva E cerca di portare subito Ordina la sua squadra Bartolucci Attenzione al suo sinistro Sceglie il sinistro di Gioia Gioia di calcio C'è la parola di Arcangeli Ricomincia ancora per Fornelli Ora sono anche usciuti i ritmi Perché è usciuto anche Poggiani Col suo intervento in campo Col tacco per andarsene Una magia Poggiani ancora parla di buona Poggiani calcio ancora Pileri Non sopporto Pistilli A tempo di stoppare E coordina la conclusione Che viene di viata alta Crescono i miss Cerca subito il capitano Maggi Maggi Si libera il tiro Pileri Forti in mezzo Arcangeli respinge Pistilli Poi si trascina La parola di Maggi La parola di Maggi Ancora per Provvediche e calcia Trova l'angolo Su un pasticcio difensivo Segna Provvediche Buca La difesa avversaria E riporta il punteggio Più confortevole Porte su Faraglia Che con un guizzo Se ne va Faraglia punta E sfina Pileri Ma calcia sul fondo Pistilli serve Fornelli Vediamo se Fornelli Trova Faraglia Così è Faraglia Prova a calciare E coge un palo Glamoroso La parola ancora lì Per Fornelli Che calcia nuovamente Sul fondo E allora ecco Proietti che si leva Proietti è solo Serve in mezzo Provvedi E la chiude così Tapin facile facile Per Francesco Provvedi Finisce qui Le cantine aperte Si impongono E prendono la testa La classifica Vincono Con ampio margine Una bella prova Di tutta la squadra In particolar modo Di proietti Che nel primo tempo Con la tripletta Ha spaccato la partita Che nel primo tempo